18 febbraio 1546 muore martin lutero il padre della riforma protestante l'autore delle 95 tesi di wittenberg che così violentemente mineranno il potere temporale e spirituale del papato di roma il luteranesimo nega la transustanziazione ovvero la trasformazione nella liturgia eucaristica del pane e del vino nel corpo e sangue di cristo il ruolo intercessore della chiesa e il valore salvifico delle opere buone portando avanti la teoria della giustificazione per fede